Buongiorno a tutti, stamattina la settimana comincia con un successo, pensavo di avere solo i ragazzi impegnati nel calciotto per il memorial, purtroppo dei ragazzi del liceo che in questi anni hanno trovato purtroppo la morte con gli incidenti automobilistici o con le motociclette, quindi stamattina c'è questo torneo in corso, ma intanto arrivo in ufficio per, come dire, intenta fare tante cose per i nostri quattro piani di lavoro, di alunni e tante iniziative e invece ci ritroviamo ad avere una bella sorpresa. Nicola stamattina ci comunica un successo che ci entusiasma, avere alunni che vivono bene la vita scolastica e anche lo sport per me è motivo di orgoglio, vuol dire che ancora riusciamo a tenere il passo con l'enorme complessità di questa epoca, per cui adesso voglio, non voglio presentarlo io, voglio che sia lui a dirci le cose belle che ha fatto. Dai Nicola! Io sono Nicola Bertolini, appartengo a Regina Margherita, al liceo statale Regina Margherita, sono stato di recente a Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine, dove si sono tenuti i campionati italiani assoluti di nuoto pinnato, dove sia io che la mia squadra abbiamo avuto ottimi risultati, ho vinto i 200 metri nuoto pinnato il secondo giorno e insieme a altri tre miei compagni, due ragazze e un ragazzo, siamo riusciti a ottenere addirittura il record italiano sulla 4x50 pinne. Io come obiettivi quest'anno abbiamo la qualificazione magari a un mondiale junior che si terrà a Shalme Sheik in Egitto e stiamo lavorando appunto per questo e siamo anche supportati, infatti quest'anno grazie a un progetto del CONI anche la scuola sta supportando tutti noi atleti che siamo appunto impegnati in lunghe sessioni di allenamenti e tutto. Quindi l'impegno congiunto serve, serve la comunione di intenti, l'impegno congiunto e come dite, il fair play, come si chiama, la corretta deve essere all'ordine del giorno. Noi veramente siamo, ringraziamo il nostro Nicola. Grazie, grazie Nicola.